ciao virginio e bentornato i nostri microfoni finalmente 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 ci sei mancato e davvero è un po che non chiacchieriamo di persona è vero no però dicevamo appunto che insomma in questo momento è veramente un po complicato parlare di persona però almeno la tecnologia serve a delle cose anche concrete noi siamo degli esseri sociali quindi questo ci è mancato un po abbiamo imparato anche a trovare questa questa nuova formula per per chiacchierare per parlare e anche per presentare un brano anche perché dobbiamo parlare di questo nuovo singolo dove secondo me tu metti tutto te stesso e proprio dal modo in cui lo interpreti si sente quanto sei coinvolto in quanto sei legato a questo brano guarda rimani è una canzone che parla di me è vita vera no io non scrivo mai cose che non riguardano la mia vita o che non siano reali sai scrivere una canzone testo e musica presuppone che tu debba anche farti una grossa analisi no interiore e in questo momento credo che ci siamo trovati un po tutti no chiusi in casa costretti in casa a fare delle grosse analisi su noi stessi e io a un certo punto ho ragionato anche su su come a volte finiscono alcune storie no quando si esauriscono però sia poco coraggio magari o si fa fatica ad ammettere che che una storia è finita o comunque è cambiata e perché è molto più facile ovviamente restare seduti comodamente sulla propria poltrona anziché alzarsi e scombinare tutto no e affrontare quello che affrontare un po quello che arriverà davanti che è sempre ignoto no noi siamo sempre più portati a restare nella nostra zona di comfort e quindi in realtà rimani è proprio invece l'affermazione del del proprio della propria libertà è un grido di libertà come c'è alla fine della canzone no ma libertà intesa come affermazione di se stessi no è un po come dire io sono così e ho bisogno di questo e prenderne consapevolezza è una cosa non sempre facile quindi per me questa canzone è anche uno scambio con con chi l'ascolterà no cioè io credo sempre che la musica deve essere anche un po la condivisione no di cioè quando quando le persone mi scrivono che si ritrovano in quella canzone sentono quelle stesse cose che ho sentito io sia io che loro ci sentiamo meno soli insomma no ma io credo che comunque nel tempo ci sia stata anche un'evoluzione dal punto di vista proprio stilistico nella tua capacità anche di scrivere e di descrivere quello che può essere l'amore quello che possono essere anche le varie sfaccettature del sentimento tu come vedi come pensi di essere cambiato nella capacità proprio di descrivere dell'amore di descrivere comunque una una storia anche finita ma guarda bella domanda perché sai il cambiamento è sempre più facile vederlo negli altri che in noi stessi no cioè io di fatto cresco come crescono tutti e mi rendo conto anche io soprattutto mi rendo conto ascoltando ecco ascoltando i primi brani i miei primi brani da davvero ma anche ad occhi chiusi non importanza insomma canzoni che hanno segnato il mio percorso e quello di chi mi segue diciamo che noto che c'è una grande connessione a quelle canzoni rispetto invece magari alle ultime sperimentazioni che mi sono divertito a fare perché è una cosa che mi piace molto proprio musicalmente parlando però è chiaro che questa canzone mi riconnette molto con quello che è il virginio degli esordi no perché mette al centro il sentimento io sono un grande amante del pop prima di tutto sono io amo definirmi pop and roll no anziché rock and roll pop and roll ma nel senso di proprio di perché è un pop secondo me che per me il pop è la musica ok tutto il resto attinge dal pop ma il pop è la musica primaria è il cosiddetto anche se vogliamo nazional popolare la mia missione è sempre stata quella di fare un pop ben fatto no spero di riuscirci e insomma comunque il mio obiettivo e quindi essere pop and roll per me significa fare un pop con con un carisma molto preciso non è essere delicato parlare di sentimenti è anche questo però è anche tirare fuori la cazzimma perché perché la perché una canzone pop ce l'ha una canzone pop è in grado di farti piangere no non è un esercizio di stile o ridere non è soltanto un esercizio di stile come magari lo è in altri generi che io ascolto e amo però per me il pop è il principe di tutto assolutamente ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda tra l'altro bene bene sono contento senti ma a proposito comunque di tutto questo genere musicale è passato più o meno un mese dal festival di Sanremo sono passati 15 anni dalla tua partecipazione tu come vedi questa nuova musica italiana quelli che sono gli artisti che oggi stanno funzionando molto in classifica ma guarda io credo io sai ognuno ha la sua unicità quindi difficilmente anzi non credo di farlo mai di paragonarmi ma perché semplicemente veramente ognuno ha la sua unicità quindi sarebbe anche impossibile però credo sinceramente che ci siano delle variazioni al tema ok però di base parliamo sempre di pop io sono convinto infatti insomma c'è stata un po' questa invasione no chiamiamola in senso positivo dell'indie o del di alcune sfumature trap no con l'autotune dove si utilizza l'autotune anche dal festival di Sanremo ok il tempio del pop questo ti fa capire che quelle canzoni poi possiamo dare un nome al sottinsieme no indie trap rap ma di base è tutto pop ok se non almeno dalle cose che io ho ascoltato al festival di Sanremo poi è chiaro che il rap è una cosa molto precisa la trap è una cosa molto precisa ma per esempio già l'indie è assolutamente pop è un pop cantautoriale che usa magari un linguaggio leggermente diverso spesso si somiglia molto ma questo credo che sia normale ma sempre di pop parliamo assolutamente parlando di comunque di artisti che hanno partecipato a Sanremo beh la domanda la devo fare su Anna Lisa ospite di Luca Barbarossa Radio 2 Social Club battuta molto infelice da parte sia di Barbarossa che di Perroni tu come l'hai vissuta guarda io non credo che meriti i commenti non preferisco preferisco assolutamente non commentare sono sincero ma anche perché i risultati poi parlano da soli nel senso basta scorgere il tuo curriculum e mi fa strano che una persona che sia un collega e allo stesso tempo collega mio e collega tuo non ti conosca ma questo francamente ma questo lo trovo anche un po' improbabile detto ciò veramente è una cosa che che mi che preferisco non commentare va bene torniamo invece a noi visto che tante volte abbiamo abbiamo parlato abbiamo chiacchierato anche di quello che sarà l'album sicuramente la pandemia può avere ritardato il progetto ma adesso hai qualche novità comunque stai lavorando a qualcosa di più preciso sì sto lavorando un album ovviamente questa questa canzone è il preludio no di tutto quello a cui stiamo lavorando e quindi guarda io sono sono contento del fatto che questo momento comunque ci abbia ci abbia regalato un un ambito in cui riflettere siamo tutti estremamente stanchi il mondo dello spettacolo in particolar modo credo che sia arrivato allo sfinimento perché non si possono tenere i teatri chiusi non si può non si possono non fare concerti non si può non fare tutto quello che riguarda lo spettacolo mi viene da chiamarlo spettacolo perché intrattenimento lo trovo un po' riduttivo ok io non devo intrattenere nessuno come te non devi intrattenere nessuno no cioè questa è cultura popolare ma è cultura come quindi voglio dire come tale deve essere trattata la cultura non è una cosa secondaria perché la cultura tratta le sensazioni e i sentimenti e le interiorità e mi sembra che il fatto stesso che noi soffriamo a stare rinchiusi in casa e non poter essere sociali significa che noi abbiamo bisogno ok di scambiare opinioni di essere di 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 scambiare la nostra interiorità parlare no la cultura fa questo quindi è allucinante che i teatri siano chiusi da più di un anno capisci o i cinema o io lo trovo direi vergognoso ma soprattutto nel per il paese che siamo per la cultura che abbiamo e per la storia che abbiamo detto ciò c'è un'emergenza sanitaria che ovviamente ha la priorità io mi auguro che che questi che questi vaccini ci riportino almeno a una nuova normalità e quindi che ci diano l'opportunità di riaprire in sicurezza perché la cosa da fare è riaprire in sicurezza non si può pensare a una chiusura e un'apertura continua come se fossimo in un flipper perché poi le persone adesso sono veramente stanche e oltre ad essere stanche sono economicamente provate cioè quindi trovo ecco che che forse bisogna forse più concentrarsi su queste cose piuttosto no che invece schernire i colleghi o gli altri cantautori credo che sia più importante questo assolutamente senti io non posso che ringraziarti ti auguro buona giornata e speriamo davvero di rivederci presto grazie a te Simone sei sempre un mito e grazie al Music Italia che io ho avuto l'onore di frequentare diciamo già dagli esordi e sono sempre molto contento di stare con voi e mando un abbraccio anche da qua al direttore a te Simone sei sempre un mito 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 a te Simone sei sempre un mito